Matteo Manicone! Sul tacco! Michele Tozzi! Signori, che dire, un ringraziamento e magari ci vediamo l'anno prossimo, per la terza edizione, quasi ai giovani. Signor Cavaglioli, vieni! E' il nostro presidente! Bene! Dove sono gli altri? Passo! Miquelio Ancelli, parto, parta sul falco! Carazio, Cavagliolo, Paolo! Simona Lombardo! Rosso Pizzarelli! Dove è Rosso Pizzarelli? Siamo tanti signori, domani saremo di più! Siamo tutti! Siamo paziente con gli altri! Dove è un anno helpful. Siamo paznak空z那我們i! Sì? Siffoo! Sì Grazie a tutti